Se morissi in questo istante, saresti soddisfatto di te? Coesiti, poesie, racconti, gesti, creazioni, visite nei musei e chiacchiere al bar. È così che Soskia Bodk racconta dalla A alla Z la figura del marito, il poliedrico regista Peter Greenaway, coinvolgendolo in tematiche a lui care attraverso uno scambio generazionale con la figlia Pip. A come Amsterdam, A come autistico, rappresentano l'incipit di questo alfabeto filmico, poetico e un po' sperimentale, girato dalla regista in maniera profonda e umana. C for children, i figli, D for death, la morte. Come del resto, film sta per film. Peter Greenaway è un uomo che non si ferma mai, un energico creatore anche dopo gli 80 anni, quella data che si è preso come limite per lasciare un testamento ricco di tracce, immaginazione vivida e ironia. Un'ironia che ti, il tempo, farà sedimentare.